ciao amici benvenuti in una nuova video a te prima dalla redazione iniziamo subito con delle piccole notizie leggere anzi c'è anche un po diciamo una cattiva notizia ma questa la lasciamo per il prossimo thriller allora è stato pubblicato da siga e ovviamente da ryuga kotoku studio un nuovo thriller di yakuza like a drago ishin come ben sapete uno spin off che uscirà praticamente il 21 febbraio 2023 su pc playstation 4 playstation 5 xbox one xbox serie xs e pc ovviamente parlato con il doppiaggio in inglese e giapponese con sottotitoli in italiano gire action il nuovo thriller non fa vedere diciamo nulla di quello che già noi sappiamo che ha tre stili di combattimento eccetera eccetera più che altro vengono presentati i minigiochi e anche alcune diciamo alcune trovate di crafting dove praticamente il nostro protagonista può prepararsi dei cibi che in questo caso danno dei bonus danno la vita praticamente alla salute e fa vedere un po diciamo i minigiochi che troveremo nel gioco giusto per rendere il gameplay vario insomma un piccolo thriller direi da passare adesso alla prossima notizia ci vediamo tra poco eccoci qua con la brutta notizia allora io stavo aspettando la data di uscita di atelier rizza 3 archimist of the end and the secret key che doveva uscire praticamente il 24 febbraio 2023 per playstation 4, playstation 5, pc e nintendo switch prodotto da techno koei sviluppato da ghast ovviamente doppiato e tradotto in giapponese con i sottotitoli in inglese rpg a turni sarebbe stato uno dei giochi che avrei portato alla recessione unboxing a febbraio purtroppo la marca di sviluppo ha annunciato tramite twitter che il gioco è stato rinviato il 24 marzo 2023 appunto per le console che ho detto prima per playstation 4, playstation 5, pc e nintendo switch quindi la recensione e l'unboxing insieme a game start purtroppo la porteremo verso marzo quindi marzo o verso in aprile comunque tra marzo aprile porteremo la recensione unboxing purtroppo in rinvio detto dal judo onsoi che è il produttore del gioco ha spiegato che gli serve tempo per migliorare la qualità del titolo quindi per forza hanno dovuto fare in rinvio per permettere al team di sviluppo di dare un prodotto di qualità insomma la classica prassi quando viene rinviato un gioco fanno queste dichiarazioni che i team gli serve tempo noi comunque mani in quale accettiamo il rinvio perché più che altro speriamo che però venga rilasciato un titolo di buona qualità che noi ovviamente valuteremo quando faremo i test sopra direi da passare al prossimo thriller ci vediamo tra poco altro thriller e gameplay mostrato da Wulong Final Dynasty sempre prodotto da Koei Techno sviluppato da Team Ninja anche questo è un action RPG lingua in inglese, cinese, giapponese e ovviamente con i sottotitoli in italiano sarà disponibile il 3 marzo 2023 per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, ES e PC giustamente noi porteremo come avevamo detto prima nei precedenti thriller la recensione unboxing insieme a Game Start il nuovo thriller ci fa vedere praticamente circa 12 minuti di gameplay che viene mostrato praticamente altri scenari altri combattimenti e vabbè diciamo che i sottotitoli che per il momento stanno continuamente pubblicizzando speriamo che non fanno spoiler perché sennò dopo è inutile prendere il gioco e portarlo comunque il thriller fa vedere alcuni miglioramenti per quanto riguarda il sistema di controllo che sembrerebbe molto veloce e anche bello frenetico speriamo in bene che potrebbe essere un bel action RPG veramente interessante forse potrebbe superare il loro famoso precedente gioco Nioh vediamo un po' come sarà ovviamente il recensione unboxing per quella data che ce l'abbiamo praticamente in lista e assicurato questo gioco invece l'abbiamo messo in lista per una futura recensione perché vogliamo anche recuperare anche i primi capitoli è stato mostrato un nuovo thriller di Disgea 7 questa volta incentrato su un nuovo personaggio Sifur Sifur praticamente è una ladra una ladra che praticamente ruba e ne fa uso anche della polvere da sparo per potenziarsi è molto interessante perché come sapete è un RPG tattico a turni sviluppato e prodotto da Nippon Ichi Software insomma lo stile grafico come abbiamo visto nei precedenti thriller e anche con i precedenti capitoli da quello che ho visto su internet ha uno stile grafico in self-sceni che dà quel tocco al gioco in stile anime che a me mi piace tantissimo sia a me che alla mia amica quindi l'abbiamo messo in lista e speriamo di portarlo il prima possibile come recensione unboxing bene ragazzi questa è la fine delle notizie per questa video a te prima spero che vi sia piaciuta lasciate un like e un commento fatemi sapere anche voi nei commenti cosa ne pensate di questi giochi quale state attendendo di più e ovviamente noi ci vediamo per la prossima puntata un saluto da Loro Misterioso, da Lady Blue e dal vostro amico Bomb link in descrizione come sempre trovate tutte le solite info bye bye